Però c'è qualcuno, qualcuno c'è qualcuno No, no, vaffan***a, non vuole andare via Non mi interessa, vecchio, lo conosco benissimo Posso aiutarla? Vai via, vai via! C'è qualcosa, Anto, io ho paura anche di queste candele dietro, Anto Anto no, no, aiuta, aiuta Stiamo vicini, vecchio, ho paura, ho paura Ho paura, dietro, dietro Minchia, no, Anto sto vedendo robe Anto vedo robe Passi Sto vedendo robe, vecchio Vieni, eh, eh, vieni C'è come quell'angolo della casa Andiamo a vedere se c'è Adesso che forse rischiamo a dirlo Se c'è Se ci sono ancora le teste Sulla finestra delle statue Ti ricordi in alto, di là, c'erano delle teste Mi sembra di ritornare proprio ai primi video Vediamo se questa porta è aperta Magari questa non è aperta Sono terrorizzato E questo posto lo conosco molto, molto, molto bene Madonna Crollato tutto Quella miseria Eh no, c'è ancora il rispetto qua E io sento rumori di... Anch'io, io... Questo No, questo Secondo me è un po' la suggestione che abbiamo No, vecchio No, vedi Vieni da dentro C'è qualcosa ai piani alti Passi, passi dove ci sono le candele Tanto, andiamo via Andiamo a vedere di là veloce Vieni con me Vieni con me Perché ma le candele fanno strappaura Perché sono tre adesso? No, sono quattro Non so È lì dietro l'altro A me non convincono, brodi Ah, guarda Quello è rimasto sempre lì Quello non si è mai spostato Me lo ricordo come fosse ieri, vecchio Poi prima di venire a fare questo video Ci siamo andati a vedere quello vecchio E mi ha detto Dobbiamo ritornarci Però ho visto qualcuno Mi è sembrato di vedere qualcuno Non sto scherzando Tu una volta che sei dietro capisci No, no, no No, mi è sembrato di vedere qualcuno, Zeo Non sto scherzando Non dico No, no, no No, sento troppi rumori No, dietro non ci andrei comunque Stai qua Stai qua, vediamo Cos'è? Un sacco Cosa c'è lì dentro? No, vecchio Hanno chiuso tutte le finestre sopra Voglio vedere lì dentro, vecchio Cos'è sta roba, brodi? Non è un sacco È un telo È un telo? Ma perché? È tutto pronto? Perché? Perché? È tutto pronto Di spaccato Vabbè, quello può essere la natura Ma questa roba? Per quale motivo? Ah, sai Io non andrei via da questo bosco Dici? Sì Io andrei via proprio Ah, che mal di pancia Frate No, no Stratico Mal di pancia Vai direi Sarebbe bello entrare però Si sentono troppe robe Dovremmo provare la tavola qua Ragazzi Se volete che veniamo qua Con la tavola oija Se volete che portiamo La tavola oija qua Con un fan Mi raccomando Scrivetemi su Instagram Andate a seguirmi su Instagram E verremo qua con la tavola Dai, andiamo via Bro? No Bro, c'è qualcuno Qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Spegni i flash C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Vai che hanno unito le candele Fai zoom Fai zoom Fai lo zoom Fai zoom C'è qualcuno È una persona Vieni Vecchio Scusi Ma è uno? Quanti sono? Mi scusi? No, sono di più Vecchio No, no, anto, anto Scusate Vecchio, mi sto cagando in mano Dove vanno? Dove vanno? Oh Vieni con me Oh Oh Quanti sono? Oh Cosa stavate facendo? Cosa hai fatto? C'è del colore? Oh Vecchio guardati dietro ogni tanto bro Guardati dietro Attiva il flash, attiva il flash, attiva il flash Attivalo Oh Vieni qua Vieni qua vecchio Io sono curioso adesso No, no, che immaginati li ho visti si vedevano anche a video Vieni con me No vecchio Perché no? Perché mi danno sempre del fake Vieni qua Sono spariti eh Oh Andiamo via Oh Oh No perché è il suo stufo che mi danno del fake fra Dove sono andati? Stava un palese facendo qualcosa Oh Scusate No fra aspetta Vieni con me No, 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 no Oh Guardati dietro Anto Posso aiutarti o no? Hai bisogno di qualcosa? Adesso è drogato Dai in più e scappa Guarda che faccia Canto Cosa ha dietro la schiena? Possiamo aiutarvi? Occhio è che erano in 3 Erano in 3-4 Anto Scusi Andiamoci nel via vecchio Vai Scusi 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 Posso aiutarla? Vai via basta ragazzi ci vediamo nel prossimo video venimi via grazie a tutti